Un incendio si è verificato questa mattina presso lo stabilimento della Radici Fil di Villadogna, in località Sant'Alberto. Il fatto si è verificato intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione, un operaio si trovava sul tetto per alcuni lavori di manutenzione e stava utilizzando una saldatrice in prossimità di alcuni filtri per l'aspirazione dell'aria. Alcune scintille sono finite sui filtri provocandone l'incendio, trattandosi di condotti di aspirazione molto fumo e finito all'interno dello stabilimento. I primi ad intervenire sono stati gli stessi operai con tutte le attrezzature del caso in dotazione all'azienda. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco di Clusone che hanno completato l'opera di spegnimento. I macchinari interessati dall'incendio risultano inutilizzabili e anche il locale in cui si trovano è stato dichiarato inagibile.